Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Alex e quest'oggi sorprendentemente siamo ritornati su Minecraft dopo quando ragazzi? Dopo mesi? Cioè l'ultimo video che ho fatto su Minecraft per l'appunto se non mi sbaglio era la serie Naufraghi, ovvero questa E se non mi sbaglio è da aprile che non faccio un video su questa serie Cioè scusatemi veramente se magari qualcuno veramente la stava aspettando proprio come non lo so il pane a tavola Non so che dire E però purtroppo diciamo che tu vattene via perché se no mi rompi il grano Fanculo E veramente scusatemi se per l'appunto non ho fatto per mesi questa serie però in teoria sono mesi Sì sono mesi che scusatemi ripeto perché non l'ho fatta ma più che altro è perché tralasciando il solito problema Che non potevo registrare con persone a casa L'altro problema è che il mio amicone che mi accompagna in questa bellissima avventura chiamata Naufragis Diciamo che è andato in pensione No non è vero Diciamo che purtroppo lui è occupato un pochino di più con la scuola Sta facendo belle cose con la scuola Sta cercando di non essere bocciato però tranquilli raga Si è sistemato tutto Però diciamo che non è che stiamo trovando tanta voglia di farla questa serie Nel senso che alla fine se ci pensiamo bene tra tutti i giochi Multiplayer Single player anche Why not E eccetera eccetera Diciamo che l'unica cosa tra virgolette che ci rimane da fare è quella di per l'appunto fare Cioè nel senso in realtà a me piace pure Minecraft Non dico che non mi piace fa schifo no assolutamente no Però il fatto è che giocandolo su Playstation e non per esempio su PC per esempio Diciamo che siamo molto più Sì siamo perché non solo io Siamo molto più limitati Cioè in realtà il mio amico c'è il computer però io no Però questo è un fatto non molto importante Cheat in realtà lo è E quindi magari lui visto che vuole giocare con me su Minecraft E basta Diciamo che ci tocca per forza giocarlo O da PC Cioè o da console Almeno per lui Oppure anzi Almeno per me scusatemi Oppure Ho perso la voce nel frattempo Oppure Non lo so Io da telefono Però la versione è craccata Perché io non c'ho un euro da spendere Quindi va a fan cuore No dai scherzo Fanculo la pirateria Ok guardate qua ci sta Aspetta un blocco No 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 Rega no Era il nostro blocco invisibile No Aspetta che magari Posso salvarlo in qualche modo Aspettate un attimo No ragazzi no Non funziona Dai che palle Però perché ho due letti Oddio Potrei fare la tecnica della moltiplicazione di diamanti No dai non voglio fare Queste brutte piraterie Comunque si Guardate quanta roba È perché Io ho visto che ci tengo la mia serie Rispetto a qualcuno Altro bastardino Diciamo che Sono andato da solo Un pochino A farmare Un po' di materiali Non come su fortnite Ah 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 Però Per l'appunto Sono andato a scavare Un po' di roba Ecco Sono andato a scavare Un po' di roba E In miniera ovviamente In miniera In miniera E quindi Sì non fate caso a me Tra l'altro E quindi Niente Mi ritrovo con tutta questa roba Che In realtà Vi ho pure risparmiato Il L'episodio di mining Almeno non al 100% Perché Diciamo che Quando c'era lui Quando c'era lui L'ho registrato L'episodio di mining Quindi Questa cosa già mi fa Abbastanza Contentuolo Contentissimo E Niente Se qualcuno Si stesse chiedendo Proprio In sé per sé Ale ma quindi Perché non l'hai fatta più la serie Ale perché hai abbandonato Ale perché non hai una ragazza No Quella è un'altra domanda Che Forse Nessuno mi ha fatto Ma In realtà Nessuno Anzi Mi ha fatto Questa domanda Di naufraghi Che poi Regà Ogni volta che dico Naufraghi Sembra che Deba dire Naufraghi Non lo so perché Probabilmente sarà La La bad Influenza Che Anzi La bad Influenza Che mi dà No Le altre persone Che pronunciano male Bad Ecco No Naufraghi Scusatemi E quindi Niente Viva la vita Vabbè In realtà In poche parole Il mio amico Si era abbastanza Scucciato Di giocare A minecraft In generale Credo Spero di no E Vabbè In realtà pure io Mi ero abbastanza Scucciato Di giocare a minecraft Però Vi do una buona notizia Ovvero che Quando uscirà la nuova versione Di minecraft Per console Che dovrebbe essere Tipo Verso giugno Quindi fate conto No La gente che gioca Da E' notte Compa La gente che gioca Da PC Guardate un po' Quanto è privilegiata Rispetto a quella Di console Che Non voglio dire Una Una bufalata Una cazzata Però Secondo me Come Del resto Di tutti i giochi Quasi Ci sono più player Tra le Valorant Su console Ma anche perché Non esiste Su console Ci sono più player Su console Rispetto che player Su Su pc Ecco Quindi Diciamo che Non dico assai Però Stanno perdendo Un bel po' Di persone Che giocano Da Da console Su minecraft Ecco Ecco Sono i molesti E dove trovarli Mi servono delle torce Ok Il problema comunque Del nuovo aggiornamento Delle caverne Che io non riesco Mai a trovare Del carbone Regà ve lo giuro Ecco Poi mi chiedete Ale perché non hai fatto L'episodio di mining Oppure Un altro episodio di mining Ecco qua Ecco Questo è il motivo Ed è pure questo Il motivo Del perché Io odio Il nuovo aggiornamento Delle Delle caverne Purtroppo Non sono come Lion Che c'ha Come si dice C'ha il C'ha la mod Dove lui Può Mettere la La maximum Bright Brightness Vabbè Top English Shish Ancora esiste Il meme di Shish Di Renzi Vabbè E Quindi Per l'appunto Non è che Posso fare più di tanto Per quanto riguarda L'illuminazione Però questo Lo posso fare Ecco Grazie Tanto non mi servono Le torce Sta tranquillo Gio Ecco Questa è un'altra cosa Che io do di minecraft I blocchi Che cadono Casualmente Che stavo dicendo Ah si Diciamo che Quelli la da pc Sono molto più Privileggiati Di me Di noi Che giochiamo Dalla console Perché Perché giustamente No Giustamente è un caso Loro giocano Già Alla nuova versione 1.500 Di minecraft No Non lo so Che versione Esiste adesso Su minecraft Adesso Doviamo essere Alla 1.19 Su console Oppure Su pc Non lo so Non lo so Comunque Si tranquilli Sto prendendo un pochino Di carbone Qua E me ne vado Dalla caverna Perché Non voglio Farlo diventare Un episodio Di mining Ale Non vorre Da solo Però Non fa Ste cappellate Ecco Comunque Stavo dicendo E voi Magari Vi stareste Chiedendo Anche Ale Perché Che cosa Ci sta Di bello Nella nuova versione Beh Rega Ci staranno Un bel po' Di cose Bellissime Anzi Sto pianificando Di fare Dei nuovi video Per quanto riguarda La nuova versione Di minecraft Che uscirà A giugno Su console Quindi Fate conto Quanto siamo Sfigati Noi console Player Per quanto riguarda Le nuove versioni Di giochi Eccetera Eccetera Anzi In realtà Su pc Non so se è vero Ma dovrebbe ancora essere Non al 100% Confermato Il fatto Della nuova versione Ecco Nel senso che Ovviamente Ci sono Di nuovi bug E Vabbè Per dirvelo Così Senza Senza Troppi Non lo so Improvvisamenti In realtà Vorrei fare Dei video Per quanto riguarda Una Bellissima Lotta Contro Il warden E ci sarebbe Il guardiano E secondo me Una lotta Contro il warden Sarebbe Non lo so La cosa più Figa del mondo Perché Cioè Porca Miseria Perché Se no Youtube Si incazza Ecco Ho detto Incazza Ora Non lo Consiglieranno Mai più Questo video A nessuno E Diciamo Che Secondo me Potrebbero uscire Delle bellissime cose Per quanto riguarda Il nuovo Boss Di minecraft Già è difficile Battere Il nuovo Wither Figuratevi Il guardiano Dico così Perché Diciamo Che Erano usciti Molti Bug Per quanto riguarda Come battere Il guardiano Cioè Per esempio C'era gente Che tipo Metteva L'acqua E Lo batteva Easy C'era gente Che Non lo so Lo picchiava Dall'alto Con le frecce Picchiava Vabbè Lo colpiva Dall'alto Con le frecce Poi Non lo so C'era gente Che lo colpiva Dall'alto Con la Con la spada Con questi Sono anche Raffreddato Quindi scusatemi Se a volte Faccio Delle pause Vabbè A volte Faccio Delle pause Perché Non so Che Minchia Dire Però Per esempio Se mi sentite Con una voce Un pochino Ovattata È per questo Oh dai Scopate Ecco Cheat Io a me stesso Oh dai Ale Fai qualcosa E invece Fanculo La vita Ecco Quindi Vi faccio Dei piccoli Spoiler Va Perché magari Qualcuno Si vedrà Molte Persone Magari Perché Farò Un titolo Clickbait Addio O non Addio Annafraghi E vabbè Vi rispondo Subito Adesso Regà Non lo so Se questo Sarà Un addio Non lo so Se questo Sarà Un addio Perché Uno Devo Vedere Se Per l'appunto Non ho Problemi In casa Capitemi Quali sono I problemi In casa E vabbè Due Non so Se il mio amico Vorrà Non lo so Vorrà Ancora A giocare Con me Su minecraft Perché Ripeto Che lui Ha un sacco Di problemi Con la scuola Che sta Cercando Di risolvere Mamma mia Maestro Alex All'azione Mi chiamavano Maestro dropper Mi piacerebbe Mi piacerebbe fare Qualche dropper Su minecraft Però Sapete com'è Su console Non posso fare Una sega Ok Magari la sega Si però No ok Ale non fai ridere Oh Apri Apri sta cagata Oddio Quanta roba Perché c'è un Granito Vabbè Perché c'è una Granita Ok Ok Non fa ridere C'è Oddio C'è il vecchio piccolo Del mio amico Vabbè E quindi Non mi ricordo più Cosa stavo dicendo Però intanto Godetevi il mio E poi dite Ale perché Editi i video Sai com'è Sai com'è Faccio queste Uscite A cazzo De cane No in realtà Non ho delle uscite Faccio questi versi Più brutti Del mondo Ok questa Mucca E' una mucca Clandestina Quindi la ammazziamo E' una mucca Di colore Non scherzo Sto scherzando O forse no Hihihi E Perché mi Mi dice che C'ho fame Ma non c'ho fame Vabbè Fa culo Minecraft Ale Un minuto fa Oh mio dio Devo essere Family friendly Ale un minuto dopo Fa culo Bucchi di merda Ecco Questa era Era la mia voce Che parlava dal naso Però dettagli Ecco pure adesso Anche adesso Anche adesso Però Sti gazzi Sti gran cazzi E vabbè E' una mucca E' una mucca E' una mucca Oltre a fare dei video Su come sconfiggere No in realtà No su come sconfiggere Il guardia Ma come io Sconfiggere il guardiaan E soprattutto Sarà probabilmente La prima serie Tra mille virgolette Horror Perché Regà Il guardiano Mi fa abbastanza Cagare sotto Ve lo giuro Mi fa Mi fa Non paura Che tipo Oh mio dio C'è il mostro Di Outlast 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 Eh Outlast Vabbè Outlast Vabbè Avete capito Non tipo Quel mostro La tutto ciccione Tutto nudo Che mi vuole Ammazzare Squartare il fegato Proprio Che schifo Però Tipo E' un mostro Che ti fa Accapponare la pelle E Accapponare E' un termine Che non uso Dal 1999 Anno in cui Non ero ancora nato E Ce l'ho del legno Sì ce l'ho del legno Ah Svegliati Grazie Ti prego Ciao Ti voglio bene Ah si Anche io ti voglio Tanto bene Alessandro Non è vero Mi odio Va fuori Ok Probabilmente Voi starete cringiando Per questa voce Che ho fatto Però ok Quindi Niente Posso anche Chiudere l'episodio qua Questo Erano Questi qua Anzi Erano gli aggiornamenti Per quanto riguarda Questa serie Quindi Non so Se continuerò Ancora a fare Questa serie Perché Per i vari motivi Che già vi ho detto Un'altra mucca Clandestina Vaffa un cuore Via E niente Poi invece Penserò di fare Altri video Su minecraft Per esempio Quando uscirà La nuova La nuova patch Ecco La nuova Stagione Di minecraft Ha 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 Oppure Oppure niente Tutto qua E Anzi no Oppure Potrei anche Fare una serie Vanilla Però il problema È questo Ragazzi È che La mia serie Vanilla L'ho già Incominciata Circa Un annetto fa Quindi Se voi Vorreste Vedere Magari ci posso Fare pure un video Ora che mi viene Che mi sta venendo in mente Questa cosa Potrei anche farlo E Niente Non lo so perché Ci stavo pensando A questa frase E A parte il tramonto Bruttissimo Più che altro Rega È che Non voglio fare Una nuova serie Vanilla Su minecraft Perché Uno Sarebbe la stessa cosa Nel senso Scava il minerale Trova il diamante Trova il ferro Trova la vita Che ti porti amanti Blablabla Blablabla E quindi Magari Anche a voi Non potrebbe Piacere Cioè Non sarebbe troppo Allettante Come cosa Ecco Aspettate che devo cuocere la carne Guardi Arrivo Carne 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 per tutti Sì Buona la carne Ho fame di carne Non sono vegetariano Viva la carne Ok E quindi Magari sarebbe un pochino Troppo noioso Vedere la stessa cosa Fatta e rifatta Dagli stessi youtuber Blablabla Infatti Non a caso Youtuber come Come qualcuno L'unica cosa che fa Su youtube Con minecraft Che cos'è Ehi ragazzi Adesso vi porto A fare Una bella Gita con noi All'ascondino Con i miei amici Su gmod Yeeeh Non so perché Ho detto minecraft Però ok Però Magari qualcuno Ha già capito A chi Mi riferisco Scusatemi Per questo Piccolo ASMR E quindi Cioè Magari È una cosa Che potrei portare Pure in futuro Con qualche amico Però il problema È che non ho il pc Quindi seguitevi Sul sito Viola Per farmi Per aiutarmi Un pochino E Niente Questo è per quanto Riguarda minecraft Mentre invece Per Per i video Che sto Cercando Di Di Pianificare Ecco Non Non ho una Letterale Cioè Non ho una Vera e propria idea Su cosa farò Però State tranquilli Che le idee Come Come le trovo Così le Perdo Ecco Non so che dire Va bene E Niente Regà Noi ci vediamo Nel prossimo video Ammetto che Questo video Lo sto facendo Anche per fargli Venire un pochino Di voglia Farlo giocare Un pochino Al mio Amicone Che vabbè Avete visto pure voi E niente Bella ragazzi E niente